Oggi è tutto il giorno libero, ho deciso di venire a provare nuovamente un posto che conosco molto bene e che mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. La giornata è fantastica, il livello del fiume è molto alto, speriamo si possa pescare, vediamo. Grazie. 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 Vi stanno muovendo quelli un po' più grossi, dai. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. questo è un bel bocino. a tutti. Grazie a tutti. guardate a tutti. 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 a tutti.